le stelle di azus benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di azus l'oroscopo di lunedì 14 settembre ariete una luna fantastica vi farà toccare il cielo con un dito in amore le emozioni si susseguono a ritmo frenetico e i nuovi incontri si annunciano fortunati toro il lavoro andrebbe accantonato ma voi proprio non riuscite a staccare la spina avete mille pensieri in testa che cercate di scacciare tenendovi impegnati gemelli la luna magnifica vicina a venere renderà la giornata molto intensa sono previste novità importantissime sul lavoro siate vincenti cancro non riuscite a comunicare i vostri sentimenti per questo sentirete venir meno un po di entusiasmo in amore in serata preferirete starvene un po da soli leone organizzate una giornata in compagnia dei vecchi amici la vicinanza di persone che vi stimano vi metterà di buon umore luna congiunta a venere nel vostro segno un tocca sana per l'amore vergine la luna e leone vi mette in difficoltà facendovi sentire un po tristi forse non avete sfruttato al meglio alcune occasioni che vi sono capitate e ora ve ne pentite bilancia godetevi l'energia portata dalla luna e leone organizzando una giornata all'aria aperta non è certo stando rintanati in casa che vincerete la noia di questi giorni scorpione la luna in posizione complicata in amore sarete chiamati a prendere delle decisioni importanti o più semplicemente crescerà la tensione nella coppia sagittario lasciatevi coinvolgere in attività diverse dal solito avete bisogno di incontrare persone nuove per soddisfare il vostro eterno bisogno di socializzazione capricorno organizzate una giornata in compagnia dei vostri cari avrete l'occasione buona per confidare i vostri problemi e trovare un aiuto prezioso anche per risolverli acquario vi aspetta una giornata fortunata in cui sarete al centro dell'attenzione l'amore sarà il protagonista assoluto specie per chi sogna un colpo di fulmine pesci luna in posizione difficile mette zizzania in famiglia nella coppia sembra impossibile dialogare con voi avete sempre una la mente alla pronta e con l'oroscopo di oggi è tutto le stelle di azus vi augurano buona fortuna e vi invitano su facebook alla pagina oroscopo di azus